e beh guardate se accende si spegne io sono nella fottuta cacca cioè non so se mi spiego puoi staccare il monitor? che almeno magari ci guadagni un po' di più ti stacchi un attimo posso staccare un monitor si però aspetta risolvo io risolvo io aspetta ma arrivo però è strano che mi sia finita la lava nel nether anche l'altra volta c'era sto bug ti ricordi? anche a me è finita sono andato a spostare la pompa mi è finita il braccio di rito ragazzi io potrei fare un macchinario che mi da lava infinita vediamo un po' il macchinario è il lava fabricator allora come si crafta? ce lo craftiamo subito vaffanculo dai e adesso vi faccio vedere anche come funziona quindi 15-12 lava fabricator dobbiamo fare i plastic sheds che dovremmo averne già un po' 1-2-3 ci servono poi 2 ossidiane i blades il factory dovremmo averlo chi è che è uscito? specter ok magma mi serve il fuoco e le slimeball le slimeball sono craftabili vero? mi serve no allora un blades 2 fuochi 4 fuochi non le puoi fare con la pietra filosofale in qualche maniera? si si mi sembra di no slimeball vediamo un po' come si craftano allora le slimeball si craftano oh porca puttegna non si craftano ragazzi nel crystallizer ma io l'altra volta l'ho craftato il slimeball vi ricordate? c'era un modo che forse non c'è in questo pacchetto non mi ricordo però c'era un modo nessuno ha due slimeball ragazzi? due forse ce le ho io aspetta adesso non posso andare a cercarmi le slime veramente io ho le magma cream c'è un modo per farle ritornare slimeball? le magma c'hai? quelle mi servono me ne servono due e c'è la tre me ne servono due Rendo eeeh dov'è dov'è Luke Luke ok non trovo più waypoint Tom eccolo qua mi avevano chiesto una cosa e me la sono dimenticata oddio oh perchè mi arriva la roba ma rendi invisibile? ah le slimeball le fai col mocus combo vedi con le api Tom Tumeni Renda Tumeni Renda Tumeni Renda funziona sempre ragazzi allora due di questi questo qua due ossidiane tre di questi qui e one di questi qui lava fabricator il lava fabricator in poche parole ragazzi funziona a corrente ve faccio vedermi a corrente in che senso? ora non so se va con questa corrente mi fermo un attimo e vediamo allora mi servirebbe mi servirebbe perchè più corrente arriva meglio è eh rendi dovrò usare i tuoi diamanti per altro no no fermo fermo aspetta aspetta c'ho una batteria sto facendo ma adesso vengo a ricaricarti le MFE no non voglio che mi ricarichi le MFE io voglio mi servono i fibra cable eh vabbè fai quello che vuoi allora che si craftano in questo modo voilà perfetto proprio così dove 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 proprio così si craftano come cacchi si craftano ah è vero che pirla diamante poi mi serve mi serve non ne ho qua argento vero? mamma mia come scende sta cosa silver 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 non ne ho da cuocere un attimo e se fai invece quelli con i motori della blue energy eh? è quello che ci metti il motore sotto e ti crea magma o qualcosa non mi ricordo no no ci penso mi un attimo ok me ne vengono sei me ne vengono sei me ne vengono sei me ne vengono sei potrebbero bastare ma anche no vediamo allora in poche parole di qua abbiamo noi la abbiamo è vero un po' di lava sta tornando come mai? dopo richiudo dove cacchio ho messo il l'MFE eccolo qua allora MFE prendiamo la corrente no si è collegata sopra sto lasciando un po' di corrente è giusto però non si deve collegare lì come faccio? ecco il pannello lì la cover orca loggia no la cover non funziona con questi qua orca loggia sono nella cacca ah che pirla da qua ma lu che colore ce l'hai l'ender tank tu? no che pirla mi sarò già in dubbio eh non mi ricordo rendi un attimo che sto scherando un attimo la corrente esce dal davanti puttagna cagnaladra lava come posso fare? no ok non è come rinni rendi poi non distruggermi casa grazie no no volevo controllare perchè mi sorgevo un dubbio allora lo faccio da qua perchè la corrente oh ok perfetto posso fare così voilà poi ci mettiamo il nostro magma caz ecco vediamo un po' se riesco a farlo funzionare ragazzi tankete non si col... e che cavolo non sarebbe una cosa un po' ok guardate arriva la corrente però ne arriva molto poca perchè non abbiamo corrente nell'MFE te l'ho messa un pochino si ma la stavo usando l'ha già usata tutta eh meglio bisogna lasciare 60.000 l'ha usata tutta ma non ha fatto lava in poche parole ma quello si è fatto apposta no eh ragazzi non è che fa tanta lava è nel senso che se facesse tanta lava sarebbe una 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 cagata perchè avremmo corrente infinita fa lava ma non quanta corrente entra però per intanto usa la lava che è di là con un po' di secchi la butti dentro no aspetta perché intanto posso fare così io ho perso i cosi i cosi bianchi questo è il rendimento che me l'ha fottuto io lo so cosi bianchi cosa i marbo un pannello bianco si ah no non ce l'ha pannelli no pannelli un blocco ok ragazzi non mi funziona più la pompa nel nether facciamo finta che mi serve un generatore facciamo finta di castare un generatore devo farti un'altra domanda perchè la stanno scrivendo tutti che è un fabricator all'ingresso della cesta singola tutti hanno scritto sta cosa non so che significa si ma non mi serve il fabricator lo so l'ho letto anche nei commenti su youtube ah ok allora generatore geotermano generatore allora una batteria subito subito tin cavallino eh redstone un copper cacchio non abbiamo gomma perfetto io avevo la gomma da qualche parte avevo la gomma vi ricordate che io avevo la gomma vero? vi ricordate che io avevo la gomma hai un 2 milioni di gomma eccola qua ma che pirla ce l'ho tutta cotta già voilà allora questo con questo facciamo un cavo veloce dai batteria 3 di questi eh non mi ricordo più ok eh ma come non ho mai cobblestone addosso io ho miliardi di cobblestone no non c'è neanche più corrente adesso c'è la corrente perché non va? ah perché i monitor sono spenti pirla cobblestone qua possiamo anche riaccendere i monitor volendo però guarda un attimo senza i monitor stai generando corrente? ma sai che veramente sta generando un sacco di corrente? si è sbaggato nel nether eh magari sono i monitor che ciucciano troppo eh eh no vabbè quell'impianto ciucciò quell'impianto ciucciò un sacco di corrente lo so però si scende ma neanche più di tanto boh vabbè vedremo devo andare a controllare nel nether nel nether eh io ci sto adesso nel nether e poi andare a vedere la pompa di Luke eh non so qual è tra le mille e mila perché c'è quella sui lagomusoli eh oddio mo le cerco aspettate non ditemi nulla si stiamo un attimo qua la mia e poi vado a cercarla ma perché neanche la tua ha smesso? eh sì la mia si è tipo prosciugata sotto la lava ma non era infinita una volta? è infinita perché il mio ancora non ha finito cioè continua eh ma il mio hai visto? mi ha riempito tutto quel tank lì enorme eeeh un'altra domanda della chat sicuro che la tua ender tank non sia tipo stato copiata cioè il tuo colore è il tuo? può essere che mi hanno fottuto la lava eeeh il mio io questo controllavo prima il mio no il mio è il mio è bianco blu bianco cioè bianco azzurro bianco il mio è bianco giallo giallo ma io ne ho raccolto un generatore una volta ma vaffanculo vuole neanche un caffè per favore? allora voilà ok se io qua ci metto ci metto ci metto cosa ci metto? non c'è niente da cuocere non ho carbone come si? ah il carbone non si crafta apposto ma io veramente non ho carbone ma io ce l'avevo il carbone prendi prendi la casa mia lo usano no ma ce l'ho coal coal 18 li ho ok se io metto questi 18 coal vediamo un po' con 18 carboni quanta lava mi fa se lo metto così attaccato mi arriva vero? ok guardate ragazzi già ha cominciato la lava guardate però va abbastanza veloce eh oh kaiser ho già fatto un tick no aspettate ragazzi ma sale su in fratta? eh veri guarda il live ho consumato due coal e già l'ho fatto un bel po' tipo non so quanto sia questo qua sa che ogni 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 metà è un secchio se non mi sbaglio devo andare a cercare gli slime io dovrei svuotare questo tank ma si quasi quasi li svuoto ma che me ne fotte e gli slime cosa sono? nella palude no? da dove esce la lava? facciamo sta prova mi serve un coso e ti pareva che non c'avevo ferro io? vabbè ho l'oro allora 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 voilà dai perché mi sto rincoglionendo un attimo? facciamo sta prova no sono un grandissimo pirla sono un grandissimo pirla sono un grandissimo pirla sono un grandissimo pirla ah ah c'era vetrano ok 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 ora si cosa devo andare a cercare se gli slime devo andare a cercare una bella paludia e però non si gira figlio di stronza allora mi serve mi serve mi serve mi serve mi serve un tubo di legno dove lo faccio? ce l'avevo già fatto? dimmi che ce l'avevo già fatto tubo di legno una bella paludia yeah basta oh ok allora facciamo sta prova pumpete ah che figata esce già la lava senza il coso ok vedete ragazzi si la lava che aveva fatto sembrava tanta alla fine era un goccettino neanche un un cinquantesimo di tank si fa la lava ma non ne fa così tanta sembrava sembra se sembra si vivava di più loop controllo le turtle è pieno di spade ragazzi basta questa cosa allora andiamo giù basta cosa dovevo fare intanto corrente non ne abbiamo oh fly 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 via tutta questa roba ah stavo facendo ok mi sono ricordato eeeh Randy si dimmi per caso giusto per caso per caso non ti è avanzato non lo so un po'